Durante l'Assemblea dei Popolari per l'Italia di Basilicata, il suo leader, Aurelio Pace, consigliere regionale del gruppo misto, ha illustrato le prospettive di temi sui quali lavorare. Durante i lavori si è approfondito maggiormente il tema petrolio, argomento lucano di estrema attualità, per capire se la risorsa petrolio potrà essere importante per lo sviluppo dell'intera regione nel rispetto dell'incolumità sociale, sanitaria ed ecologica. Si è giunti a concludere che l'approvazione del memorandum costituisce il primo passo sul quale lavorare, guardando i dati regionali con responsabilità e tranquillità. I due cardini imprescindibili in esso contemplati sono l'istituzione dell'osservatorio ambientale sul petrolio presso l'ospedale di Villa D'Agri e il monitoraggio, a cura dell'ARPAB, su aria ed acqua nel raggio di 20 km dei siti di estrazione.